Dopo ben tre video ce la facciamo a fare questo mini haul che come sapete volevo metterlo assieme al video dei regali di compleanno poi invece volevo metterlo assieme al video fan mail ma non ci sono riuscito e quindi lo facciamo oggi un mini haul probabilmente velocissimo perché c'è un motivo ben preciso due cazzate ve le volevo solo far vedere così giusto per ma perché siccome molte delle cose che o alcune delle cose che ho acquistato nel prossimo video o nel prossimo video haul compariranno già qui intorno volevo mostrarvi le prima di metterle fuori perché sono delle cose con un determinato tema quindi iniziamo subito cosa sono queste cose ci arriviamo ma prima volevo farvi vedere una scemata che potrebbe tornare utile anche a molti di voi perché secondo me è una cosa carina e visto il prezzo lo è ancora di più da action attualmente hanno queste che sono delle piccole mensole da attaccare ovviamente al muro c'è tutto l'aggancio dietro ci vuole un trappano insomma bisogna saperlo fare ma sono stra carine io ne ho comprate due adesso qui ne vedete una sola l'altra a casa qui vi danno l'idea così per farvi capire come poi dovrebbero essere una volta montate le ho prese perché mi tornano comodissime cos'è sta cosa ah ok no perché lì vedevo una macchia invece solo sulla plastica mi tornano comodissime per esporre le bambole perché adesso le mie vetrine sono zeppe ma proprio zeppe non ci sta più neanche un granello di polvere e ho tutte le barbi tratte dal film in salotto non so se vi ricordate che tempo fa io vi dissi che in salotto cercavo di tenere poco niente volevo una vetrina solamente con solamente le bambole tipo le holiday le collector quelle le gold label insomma quelle più belle che voglio proprio avere sempre esposte il problema è che da una vetrina sono diventate due in sala perché non ho altro posto in casa e in più sopra la libreria ho tutte le scatole perché le bambole del film barbie the movie le rimetto in scatola sono tutte sopra la libreria mi sono rotto le palle e quindi ho comprato queste due mensole per mettermele in studio in modo praticamente sopra la porta poi vi farò vedere quando monterò tutto e metterò tutto a posto metterò queste due mensole per esporre o almeno per organizzare riorganizzare tutte le scatole delle barbie del film senza doverle tenere in salotto e quindi questa è la prima cosa perché secondo me potrebbe tornarvi utile l'ho pagata fate conto che questa qui così non so cosa possa costare all'ikea ma io ne ho acquistata una molto simile il doppio di lunghezza quindi sì il doppio fate due volte questa circa e l'ho pagata 35 euro identica spiaccicata più piccola da action 5 euro o forse meno comunque tra i 5 massimo 6 euro non di più e sono molto carine detto questo passiamo delle cose un pochino più carine e credo che questa sia la prima volta che vi mostro delle cose di sakura sul mio canale perché ho delle cose di sakura non le ho acquistate io me le hanno regalate per vari motivi non so se posso dirlo una collaborazione che non è piaciuta molto e che però non ho fatto io insomma diciamo che sono state regalate queste cose a una persona e quando io le ho viste ho detto cazzo dalle a me e allora me le sono fatte dare la prima è questa pochettina che poi c'è tutta la roba all'interno con non mi ricordo i nomi cioè in questo momento non mi ricordo proprio i nomi ma con lui il co protagonista diciamo di sakura l'animaletto dietro ci sono anche lea lucce molto carino e questa qui credo che andrà a sostituire la pochettina sì il beauty case che io utilizzo per portarmi i trucchi in studio perché è troppo carina veramente troppo carina e in più all'interno ha anche queste righe bianche e rosse rosa gialle e rosa cioè bianche e rosse sono gialle e rosa non ce la posso fare al terzo video che registro di fila non ce la posso fare assieme a questo però sparso in mezzo al pacco c'erano anche questi che si chiamerebbero scrunchies o qualcosa del genere ma che realmente non lo sono perché hanno un tessuto veramente orrendo ma sono carini c'è questo qui bianco con il fiocchettino e in mezzo questo simbolo di sakura molto carino poi c'è invece questo ma dio non ce la posso fare poi c'è invece uguale rosa ma con quest'altro simbolo che è più che altro una chiave e poi c'è quello fucsia che è questo qui che ha il simbolo che per me è il più riconoscibile perché se non sbaglio è della prima stagione sono carini non credo li utilizzerò se non in casa perché onestamente eh cioè dai diciamo che non è propriamente una cosa ma mi dona anche però no aspetta cosa faccio adesso vi faccio no non faccio tutto il resto del video così magari la prossima volta non lo so già ma che schifo che faccio se sono tutto messo male vabbè fa niente comunque dicevo che non sono la cosa più bella di questo mondo però sono di sakura e a me comunque sakura piace ok non me ne sentite parlare tanto perché se dovessi fare tipo una classifica sakura di sicuro non è tra i primissimi c'è ovviamente Sailor Moon poi c'è Witch che so che Witch non è un anime lo so ragazzi non è neanche un manga lo so però per farvi capire che comunque sakura mi piace ma lo metto più o meno a paragone con Rayart ad esempio se qualcuno mi chiedesse la storia di sakura io già andrei un po' in crisi mi ricorda molto la mia infanzia e in questo caso a differenza tipo di Sailor Moon dove non dico che so tutto ma quasi in questo caso è proprio il ricordo della mia infanzia e quindi quando ho avuto l'opportunità ho rubato tutto e poi ci sono questi due no è venuto via l'etichetta c'era l'etichettina con sakura vabbè la mettiamo dentro così non la perdo e poi ci sono questi due pennelli da trucco sempre di sakura che sono molto carini e soprattutto hanno due forme che a me tornano molto comode perché io utilizzo proprio dei pennelli così perché ad esempio per il fondotinta quando mi trucco tipo oggi anche se sono unto come la morte perché ho sudato tantissimo quel video precedente per il fondotinta io utilizzo proprio un pennello così che ha le setole diciamo fitte ma piatte perché utilizzando un fondotinta in polvere anche se è un po' strano non è proprio in polvere io lo uso proprio così e questo quindi sarà perfetto da utilizzare il manico invece ha tutti i simboli di sakura molto carino e tutto rosa è troppo bello deve essere assolutamente mio l'altro invece è fatto così se vedete c'è proprio una grande differenza perché sono tutti due belli pieni di peli ma questo è tagliato piatto invece questo è molto più lungo e più morbido questo qui va benissimo per fare il contouring quindi tutta questa fascia che vedete che ho qui un pochino più scura io la faccio con dei pennelli così quindi ho detto sono assolutamente miei questi pennelli non c'è pensare neanche a tenerteli che te li ruvo e infatti li ho rubati ve l'ho detto non c'è tanta roba e sono tutte cazzate quindi preparatevi non ci sono bambole oggi ve lo dico già così chiuderete il video probabilmente oddio si c'è anche questo questa roba qui è per togliere il sebo in eccesso è una pallina che va praticamente passata così dove c'è il sebo e qui ha la forma di una zampetta del gatto visto che sono così unto proviamo vediamo se cambia qualcosa è che non voglio togliermi il lucido è cambiato qualcosa ah forse sì vediamo qua ma sai che forse funziona cioè mi sta togliendo anche un po' di fondotinta ok dai lasciamo perdere perché sennò poi magari vengo a righe senza fondotinta e faccio ancora più schifo comunque questa è una cagata colossale che ho provato da deficiente ho fatto così l'ho provata poi ho detto sì e adesso adesso me la devo tenere perché è antigenico usarla su altre persone comunque perché ci tenevo così tanto a fare questo video come vi dicevo prima ci tenevo perché alcune delle cose che vi mostro adesso le vedrete esposte in teoria già dal prossimo video e quindi mi pareva brutto metterle fuori senza dirvi nulla perché sapete che io voglio parlarne con voi e tutto e siccome ci stiamo avvicinando a ottobre io quest'anno voglio riuscire a fare più di un video a tema halloween non a tema nel senso parlando di halloween o con qualcosa di inerente ad halloween ma con lo sfondo con qualcosa di halloween e mi sono comparto alcune cosine di halloween e allora volevo farmelo vedere mi sono preso questo gnomino che non so se allora di queste cose non so cosa utilizzerò qui e cosa utilizzerò a casa perché addobberò un po' qui e un po' a casa però ho preso questo gnomo perché dall'anno scorso così se no non mi mette a fuoco dall'anno scorso mi sono innamorato degli gnomi non so perché ne ho presi una valanga questo è carino c'è la barbettina grigia con qui la scopettina bianca tutto il cappello bianco con sopra i come si chiamano tre pipistrelli molto carino mi piace tutto da action se vi interessasse tutto da action ma poi ce n'erano tre tipi mi pare questo qui bianco poi ce n'era uno col cappello grigio che però non mi piaceva e uno col cappello arancione e ovviamente ad halloween l'arancione ci vuole cioè i colori di halloween sono viola, nero e arancione e quindi ho preso anche questo questo qui non ha la scopina ha un pipistrello e un ragnetto sul sul cappello la barba è uguale ma le ali è troppo bellino adesso io non so se no beh posso delle bambole no però potrei metterlo qua tipo qua sopra oddio butto giù tutto no il porcoro non può andare giù tipo qui così non lo so qua boh mi inventerò qualcosa anche perché c'è anche questo che questo l'anno scorso me lo sono lasciato sfuggire perché da action tante volte quando arriva delle cose o le compri subito poi non le trovi più questo è uno di quelli l'anno scorso mi ero innamorato di questo schiaccianoci a tema halloween anche se lo schiaccianoci è prettamente natalizio loro non hanno fatto una serie una linea a tema halloween ci sarebbe questo qui appunto a zucca poi c'è quello vampiro c'è quello scheletro mi pare e uno zombie tipo frankenstein una cosa del genere io volevo esattamente lui e l'ho trovato e secondo me è stra carino funziona anche la bocca che però mi fa ridere che la bocca non sia all'altezza reale della bocca però funziona ovviamente se proviamo a schiacciare una noce si sfascia perché è fatto di niente tenuto insieme da uno sputo di colla però è molto carino e questo credo proprio che lo metterò qui però ripeto non vi assicuro ancora nulla poi cioè le cose sono praticamente già finite perché veramente erano tre cagate che volevo farvi vedere ho comprato questi scrunchies questi per me sono scrunchies non questi qua e cioè la differenza è palesissima questo lo vedete credo si riesca addirittura a vedere è rigido e anche il tessuto è rigido è tipo quel tulle organza un po' non so come spiegarvelo è proprio rigidino questo invece sono fatti di raso o finto raso quel cacchio che è sono più lucidi ma si vede palesemente che sono più morbidi più elastici e in più secondo me questo strappa non strappa però secondo me si incastra un po' di più nei capelli invece questi no però vedete ad esempio questo è carino da mettere così no non è carino sembra che io abbia una coroncina da deficiente però intanto lo teniamo su cosa dite e anche con quell'altro che spenzola qua dietro lo teniamo così e finiamo il video così oggi e tutte queste cosine anzi no non lo metto più su metto anche questo ecco si dai così li intrecciamo così belli tutte queste cose che vi faccio vedere tipo questi e anche altre due cosine che adesso vi faccio vedere le ho acquistate apposta per andare anche al come si chiamano oddio non mi viene il nome vabbè comunque le serate che Halloween fa a tema Halloween il venerdì da paura ecco e infatti ho comprato oltre a questi anche degli orecchini e poi voglio prendermi anche una specie di cerchietto madonna sono ridicolo comunque così ma chi se ne frega ho preso questi orecchini che secondo me sono troppo belli con le ragnatele e il ragnetto attaccato l'unica cosa è che sono effettivamente un filino lunghi perché oggi non mette più a fuoco cioè continua a cambiare il fuoco comunque li trovo veramente bellissimi e costano una miseria tutto ripeto da action e questo qui vediamo se riesco no da qua ah che fastidio questi cosi questo qui allora ora ce la farò ecco io ho non capisco come la gente faccia a trovare il buco nelle orecchie senza guardarsi allo specchio ecco così fa come ho fatto io adesso questo qui è che non si vede cacchio eccolo cioè mi sembrava una cosa carina però poi vedendolo così cioè magari togliete non lo so cioè è carino secondo me ma non sono troppo convinto mi dà l'idea che sia poco halloween è una ragnatela è più che una ragnatela ad halloween cosa può esserci però mi dava questa sensazione da poco da halloween e quindi ne ho preso un altro mi tolgo già questo così li mettiamo tutti e due che coglioni però sempre e prima ti scarichi e adesso ti surriscaldi e hai rotto la minchia però è fotocamera mia bella io sto sparando un po' di cagate fammele sparare cacchio ok forse forse ci siamo forse la mia fotocamera ci dà la grazia comunque dicevo che visto che questo qui mi sembra poco halloween per quanto sia halloween ho preso anche questi e questi qui secondo me sono molto più halloween e ma perché ah no ha ricominciato a mettere a fuoco il fiore no vi prego vi ricordate la storia del fiore che a volte la mia fotocamera riconosce nel fiore una faccia ho già ricominciato non ci posso credere comunque questi eccolo lì via via basta ok questi sono gli orecchini con le zucche e sono zucche tutte arancioni ma piene di glitter e avevo pensato di prenderlo perché mi sembrava più halloween confronto all'altro cioè poi costavano un euro e qualcosa la coppia vediamo se riesco a trovare il buco anche vedete non trovare il buco se riesco a infilarlo eh se riesco a infilarlo se riesco a mettermi l'orecchino anche di qua senza guardare no vedete che non ci riesco ah no ce l'ho fatta ma è un miracolo ma è successo in vita mia cioè sto diventando un lampadario oggi nel frattempo con il giotastrabadoso dai vedete è più halloween questo secondo voi qual è più halloween questo qua o questo qua voglio saperlo così decidete voi con quale andrò a Gardner ne metterò uno solo uno solo in un lato solo o questo o questo voglio saperlo qui nei commenti quale ragno o zucca perché a me ispira di più la zucca che si vede un po' di più questo no dovete decidere voi io continuerò a guardarmi senza perché questo è più bello effettivamente più carino me lo decidete voi per piacere in base ai commenti deciderete quale metterò allora intanto rimaniamo così proprio da cretini e ho le ultime due cose sempre a tema halloween perché questo era un haul proprio a tema halloween questa cosa vi devo chiedere anche in questo caso un consiglio ma questa volta è un consiglio serio anche se ho questa faccia così da albero di natale perché ho acquistato una cosa che voleva essere un'idea da mettere sopra a questo quadro qui ok l'ho acquistata l'ho pagata veramente una miseria poi a casa l'ho aperta è un telo che volevo farvi tipo uno scherzo volevo farvi una cosa un po' tipo farvelo trovare lì a caso prendo il video poi però visto la sensibilità dei social di questi anni ho pensato che forse non è proprio il caso e allora vi chiedo secondo voi adesso ve lo faccio vedere ma vi chiedo ve lo chiedo davvero seriamente è troppo da attaccare qui magari dovrei evitare visto il genere che tratto sul mio canale visto come cerco sempre di tenere il mood eccetera perché il telo è questo qui allora vediamo se riesco a farvelo vedere intanto devo trovare qual è la parte dritta è allora è leggermente trasparente ecco diciamo che si capisce benissimo già così è un po' trasparente credo mi si veda dietro però io avevo già pensato ci metto sotto un qualcosa vedete che ad esempio dove è doppio già si vede meglio e io volevo appunto metterlo al posto del cioè c'è tutto un uomo insanguinato volevo metterlo lì però ho il dubbio poi vabbè sotto cosa c'è scritto no aspetta ce la posso fare no entry ok ma me interessava proprio questa parte qui però ho il dubbio che sia una cosa un po' too much poi io non ho problemi questo qui andrebbe agganciato alla porta di casa quindi fuori dalla porta di casa io non ho problemi a mettermelo sulla porta di casa se voi mi dite che qui è troppo ok però ho fatto sto pensiero una volta che l'ho aperto perché l'avevo visto cioè sono anche un po' cretino perché bastava guardare qui cioè si vede madonna quel cazzo di fiore si vede già così che il disegno non è propriamente la cosa più kawaii e cute e coccolosa di questo mondo però non mi aspettavo fosse così grande e che avesse questa resa quindi non lo so ragazzi sono un attimo in crisi perché quest'anno volevo riempire un po' lo sfondo di zucche zucchette cose un po' horror però forse questo è troppo horror facile anche che mi rompano il cazzo con il video adesso perché ve l'ho fatto vedere vabbè io ci penserò magari mi riguardo anche le linee guida di youtube e tutte le varie menate vedremo anche se questo video mi darà problemi perché se questo video mi dà problemi abbiamo già capito che non è da fare ma voi comunque come fatemi sapere se secondo voi è un po' troppo oppure no perché per me non lo è però poi realmente va a capire tu e l'ultima cosa questa invece troverò sicuramente il modo di metterla perché mi piace a costo di fare di trapanare il soffitto ed è questo qui è da montare anzi era da proprio da come cazzo si spiega adesso vi faccio vedere un attimo perché l'ho già rotto tre volte l'ho già reincollato tre volte e quindi vorrei evitarmi di romperlo un'altra volta devo fare le cose con un po' di calma ecco praticamente ci sono questi pezzi di carta da cui staccare i vari pezzettini ok per comporre questo qui che è un lampadario nero glitterato allora vedete che spacco fuori tutto è di carta infatti costava tipo sessantacenti no due euro forse a me sembra un sacco carino cioè i glitter non si vedono una mazza però avevo pensato di trovare il modo magari di appenderlo tipo qui così per il periodo di Halloween o qualcosa del genere ed è stracarino magari ecco così un fiore di merda no non è possibile così vedete che è glitterato e in più assieme a questo che adesso smonto un attimo per evitare di spaccare tutto ci sono anche non so se riuscirò a farveli vedere i ragni sì eccolo lì lì c'è un ragno basta qua c'è un ragno qua c'è un pipistrello e poi ci sono anche le figure quelle c'è un video così insulso credo di non averlo mai fatto ma credo di non aver mai fatto un video così insulso in generale ci sono le zucche i fantasmini i teschi tutte queste cose ah e sono tutte con lo spaghetto per poterle appendere ma quelle che dico io dove cazzarola sono perché non ci sono no non è possibile dai perché dovrebbero esserci anche queste qui vedete queste che hanno il come si dice questi fili qua da appendere che facciano così un po' il giro giro ma non li ho e so che li avevo ma non li ho più interessante cosa è successo dove sono finiti vabbè cercherò a casa bello un video che è tre video che cerco di poter fare dove voglio dirvi queste cose metà delle robe non le ho nemmeno vabbè è fantastico c'è proprio solo io posso fare questi video di merda però tranqui mettiamo via no ma sapete che vi giuro cioè mi sembra impossibile sta cosa cioè non può essere che non ci siano quei cosini lì che girano perché ho preso tutto insieme ho aperto tutto assieme e ho rimesso via tutto assieme o che mi ha buttato qualcosa in giro la gatta perché non c'è altra spiegazione comunque direi che abbiamo già finito per oggi come vi dicevo un video veramente noioso forse anche stupido insulso però ci tenevo proprio perché non volevo farvi comparire le cose e perché mi sembrava un po' doveroso chiedervi un parere su questo sul telo da mettere dietro quindi 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 detto questo io sono stanchissimo oggi ho bisogno di sapere quale di questi due mettere a Gardaland intanto quindi commentatemi dicendomi questo e poi cosa ne pensate di questo telo perché veramente sono un po' in dubbio mi piacerebbe un sacco perché quest'anno volevo fare una cosa proprio tipo ragnatele che vi sto spoilerando tutto poi non c'è neanche più senso farlo effettivamente perché era bello scoprirlo così ma vabbè comunque la mia idea era tipo riempire il mobile qua di ragnatele anche questo alberello che con le lucette mettere questo coso al posto di quello cioè fare tutto molto creepy in più con il fatto che ho queste luci posso anche tipo questa qui cambiare il colore no non posso più come voglio quindi magari mettendo quello là e poi facendolo che ne so arancione perché non si vede arancione ah perché è troppo luminoso sì comunque non è arancione vabbè comunque se mi avete capito me la sarei studiata un attimo anche per i colori eccetera cioè cambiando un po' mettendo magari qualche effetto così non lo so facendo qualcosa di diverso ok e la stessa cosa posso farla tipo con la questa lampada qua il problema è proprio quello che non so non vorrei fosse troppo quindi ragazzi aspetto i vostri commenti detto questo video più no l'orecchino video più noioso della storia del mio canale togliamoci gli orecchini che così posso iniziare a mettere via tutto andare a casa cenare stasera quasi quasi mi guarderei anche un filmetto ma tanto mi addormenterò sul divano appena finito di mangiare come al solito e niente io quindi ragazzi aspetto tutti i vostri commenti qui sotto perché ho veramente bisogno di voi fatemi sapere cosa ne pensate se l'idea di tutti questi addobbini vi piace se vi interessano vi ricordo che li trovate praticamente tutti da action guardate questa volta non vi chiedo neanche di iscrivervi al canale di mettere like è lo stesso c'è proprio un video di merda così mi rendo conto di non meritarmi assolutamente nulla quindi va bene sapete che sono sui social se volete iscrivervi mi fate un piacere se volete lasciare un like mi fate un piacere ma fate quello che volete avete totale libertà detto questo come sempre io vi saluto vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video muah grazie a tutti